Ciao Gentaglia, siete venuti qui aspettando Breaking Italy? Oh no, sta per dirci che non c'è Breaking Italy! Mi dispiace ragazzi, mi dispiace anche dirvelo con così poco anticipo, però lasciate che vi spieghi. Allora, niente Breaking Italy oggi. Breaking Italy ce l'ho, ce l'ho il video. È anche online, però è privato. E non lo metterò pubblico, perché come sapete oggi dovevo partire con un nuovo sponsor. Però ci sono stati dei problemi dell'ultimo minuto con questo sponsor, e quindi non è chiaro se effettivamente questa partnership inizierà. Conseguentemente non pubblico il video nel quale c'era effettivamente lo sponsor, eccetera, per non incasinare le cose. Quindi purtroppo non posso rimontarlo, riupparlo, perché non fare in tempo, perché adesso devo uscire, perché ho altre cose da fare. Quindi mi dispiace tantissimo. Purtroppo ci sono delle cose in questo accordo con lo sponsor che non erano chiare. Contattualmente non erano chiare, quindi ho capito delle cose, loro ne hanno capito delle altre. E io su alcune cose, su come Breaking Italy ha fatto, non voglio cedere. Nonostante i soldi, nonostante lo sponsor, la possibilità che mi aiutino a farlo crescere. Sì, feffifo. Mi dispiace un sacco, ci rivediamo direttamente domani. Quello che voglio chiedervi è... Siate il clan della gentaglia che mi aspetto che siate, quindi, non lo so, scrivetemi nei commenti delle cose. Feffifo. Mi dispiace un sacco, ragazzi, davvero non so come dirvi che mi dispiace, cioè... Fo... Mi dispiace dirvelo con così poco preavviso. E niente. Se mi voleste fare un favore, fate girare Breaking Italy come non l'avete mai fatto girare oggi. Parlatene a tutti. Tipo, a tutti. Prendete il canale, youtube.com slash Breaking Italy, sparatelo fo dappertutto, scrivetelo nei fogliettini e buttatelo dalla finestra, perché... Questo mi farebbe piacere, perché mi dispiace davvero tanto di non pubblicare oggi. Tanto più che il video mi piaceva ed era carino. E quindi fo. Ah, bad man. Ah, bad man.